Il primo filone d'inchiesta riguarda presunti illeciti nella gestione dei reflui petroliferi al centro olio di Vigiano, di proprietà dell'ENI. L'inchiesta riguarda il superamento delle emissioni in atmosfera. Stando a quanto riportato nelle ordinanze, i dirigenti ENI erano a conoscenza dei problemi emissivi, che tentavano di risolvere occultando i dati, piuttosto che preoccuparsi di risolvere tecnicamente i malfunzionamenti dell'impianto. Tutto questo al fine di non creare allarmismi negli enti preposti al controllo. Ma i responsabili dell'impianto facevano anche di peggio, poiché in maniera del tutto arbitraria qualificavano i rifiuti pericolosi in non pericolosi. Ne deriva che anche il trattamento fosse più economico e vantaggioso. Nell'indagine sei persone tra funzionari e dipendenti del centro di Vigiano sono finite ai domiciliari, poiché è ritenuta irresponsabile, a vario titolo, di attività organizzate per il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti. Il secondo filone d'inchiesta riguarda l'impianto estrattivo di Tempa Rossa, nel quale è indagato per traffico di influenze illecite il compagno della ministra Guidi, costretta a rassegnare le dimissioni per una intercettazione finita agli atti, in cui garantiva l'approvazione di un emendamento alla legge di stabilità che favoriva gli interessi economici delle imprese e del suo convivente Gianluca Gemelli. Duro il commento del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Dispiace rilevare che per risparmiare denaro ci si riduca ad avvelenare un territorio con meccanismi truffaldini. Lo scandalo di Tempa Rossa finisce per toccare anche la Puglia, in un progetto siglato tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione risalente al 2014 si dava il via libera a Leni per far viaggiare 50.000 barili di greggio dalla Basilicata a Taranto, laddove nella raffineria l'oro nero viene stoccato per essere poi spedito in tutta Italia.